Sì, Tommy. Tommy, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Un giornatone al lavoro, eh? Che fai? Ancora svegli, è tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego un'onora, non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Cosa? No, 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 no. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Oh, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanno. Buonanno. Ti amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papa! 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 Ehi, sei qui? ...quilche modo legati all'epidemia che ha colpito... Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Puoi uscire subito tutti, c'è una puga di gas. È vicino. A quanto pare, alle nostre spalle, stacca... Cosa è stato? Papà! Papà! Ma che succede? Lì, c'è il suo telefono. Ma dov'è? Otto, chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono in recupero. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, ti avvergo! No! Vai. Vai! Mi hai sparato. L'ho visto stamattina. Ascoltami. Sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarci da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dove... Dove diamo l'aeree? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di santa. No, è mio. Dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare. Niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Mi ha detto dove andare. Mi ha detto... Che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Trevi si è necessaria. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la sedia. 71. Sto andando là. E quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Umberto, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est, della ovest. Porca troia. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, Fit. Vediamo che gli serve. Vediamo che lo stai facendo. Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira a te. Ehi, fermi! Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà con alcun altro. Dovevamo aiutare. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Ma si può fare marcia indietro? Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Oh, no! 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 Tommy! Forza, cazzo! Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Sì, ho visto. Fatta l'azione. Gira qui. Gira qui. No, 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 no. Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai! Forza, corriamo! Attacca! Papà? Ehi. Ehi. Cosa? Torno indietro. 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 papà sono qui forza dammi la mano che c'è la gamba fa male fa male dobbiamo correre tienici al secondo sono piccola senti forte è morto giove l'attento il tesoro mi usciremo e dietro sono troppi via è morto ci siamo quasi quasi supera l'ingresso muovetevi trovate una via di uscita forza ci siamo quasi papà tutto ok piccola siamo al sicuro al sicuro ehi ci serve aiuto fermi ti prego è mia figlia penso che abbia una gamba fermi dove siete ok noi non siamo malati ho due civili qui sul perimetro esterno istruzioni papà e l'unzio e tonno ti porto al sicuro e torno a cercarlo ok signore c'è una ragazzina ma sì signore senti abbiamo attraversato l'inferno ok ci serve oh merda ti prego no oh no Sara via le mani piccola lo so piccolo lo so Dio ascolta piccolo lo so che fa male andrà tutto bene piccolo stai con me ok adesso ti alzo lo so amore so che fa male forza amore ti prego lo so piccolo lo so Sara amore non farmi questo piccolo non farmi questo forza no no tocco no 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 ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego non farlo no il numero di decessi confermati ha superato i 200 il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza centinaia e centinaia e centinaia di colpi sulle strade il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'organizzazione mondiale della sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci con i burocrati privati con i burocrati privati con i burocrati privati possiamo prendere le misure necessarie per proteggere la sanità e centinaia di protesta Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale a tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena i disordini proseguono da tre giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici un gruppo che si fa chiamare le luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle luci potete ancora ribellarvi con noi ricordate se non perdete un buio cercate le luci credete nelle luci